Ciao connessionati puri, benvenuti in questo nuovo video, vi ricordo che non siete ancora iscritti per diventare dei connessionati purissimi con una connessione che spacca Dovete cliccare sul tasto iscriviti e sul tasto della campanella In questo video faremo una challenge super super fighissimissima La prova a non ridere challenge, il che è strano perché comunque io sono un tipo che se si mette d'impegno non ride mai Chissà se il video che andremo a vedere riuscirà a farmi ridere, boh Ma perché ho deciso di farla proprio oggi? Perché nello shop di oggi ci sono robe che non mi piacciono E voi potete dire ma come c'è la mia skin preferita? Vabbè a me non piacciono A me non è che faccia impazzire Beast Mode, non mi fa impazzire assolutamente per nulla l'avanguardia oscura Non mi fa impazzire Abstract, nonostante comunque sia una skin carina A parte questa che chiaramente ho già shoppato ancora tempo fa E vi giuro che shopperò a caso, nel senso chiamerò mio fratello che deciderà che cosa shoppare Se dovessi ridere mi toccherà shoppare i V-Bucks e non è quello che io voglio fare Vi ricordo comunque di supportarmi come un creatore col codice OctiPEFI E se mi taggate su Instagram poi io vi riposto nelle storie quindi se volete E vediamo quello che è questo video qua Vediamo, è un video che parla dei no default skin Quindi rideremo un po' dei nabbetti su Fortnite, vediamo un po' Allora, intanto sentiamo una musica che già parte Eccoli qua, eccoli qua Due misteriosi personaggi che incontrano quattro default che ballano con le facce da imbranati Cioè guardate che faccia che hanno Vabbè lui ormai Tfew lo sappiamo, il nabbetto classico Lei c'ha una faccia che fa troppo ridere ma io non rido, io non rido e io ce la faccio Ma chissà se voi ce la fate, chissà se i vostri amici ce la fanno Dovete fare questa challenge con i vostri amici assolutamente Vediamo un po' Ok, continuano a ballare con questa musichetta qua Che poi Cioè non sono dei veri default Perché per avere questa musichetta dovrebbero essere della season 2 Quindi stanno ingannando i due misteriosi personaggi Che non sanno come comportarsi Iniziano a mettere gli spray Perché? Loro continuano a ballare in perterriti Questo è un balletto della season 2 Non sono veri nabbi Basta fare finta Oh, hanno già tirato fuori delle armi ma continuano a ballare E dicono anche a GG, attenzione Allora Io li avrei uccisi E ora stanno in... No, vabbè, vabbè Eccoli qua Questa scena è diventata divertente Una scena dell'orrore Hanno ucciso picconando due misteriosi personaggi Non è il tipo di video che pensavo di star facendo Ok C'è questa panna e questa canzone strana Ma non sto ridendo Non sto ridendo ancora Non sto ridendo Allora Cerchiamo di immaginare che cosa può succedere Ok È facile quello che... Ok È morto per la safe Va bene Va bene, va bene Un altro default skin E qua una skin dei calciatori Ah Ste skin dei calciatori a me proprio Mi fanno impazzire ogni volta che le vedo Non so voi Che poi ditemi Da quanto tempo voi non vedete un no skin No, ora si gira e gli tira una pompata Sono sicuro Ah No Ok No Io ci sono rimasto male Va bene Qua vediamo Bob Stone Bob Stone che sta aspettando Ma povero L'ha appena tirato Dame Dimitrovski Che è sicuramente un russo con un nome del genere Povero Dame Dame Dimitrovski con... Cioè Ma... Ma cosa c'è nella mente di quell'altro no skin? Vabbè Chiaro Non puoi fare di meglio Ma... Ma perché? Ma perché fai una roba del genere? Sarebbe giusto che lui morisse Chissà se adesso lo rialza su E gli tira un altro pompata che lo uccide Vediamo un po' No Continua a buttare giù Dame Dimitrovski Povero Dame Dimitrovski Hashtag Povero Dame Dimitrovski Nelle... Nei commenti Ma... Cioè Che poi Io non capisco Quando mai beccano gente così namba Io non becco una persona del genere Da una vita su Fornance O voi No No Poveri Cosa fa adesso questo? Cosa fa? C'è... Ci sta Ci sta Ci sta Ma... È vecchissimo C'era ancora il boschietto bisunto Tadà Oh mio dio Non me ne ero accorto Che era un cespuglio Era un tipo Non me ne ero accorto È un default Che non ha capito Come funziona il lanciagranate Né dove si trova il nemico In questo Oh mio dio Sai se facciamo un rocket ride così? Poverino quel default Ve le ricordate le jumperine? Quanto tempo che non le vedevo Cosa? Ehi Ehi Guarda Guarda In perterrito eh Ah è Tfew È Tfew È un video di Tfew Cosa Cosa fai lì? Cosa fai? E lui continua Lui continua Non ti rinchiere Cosa fai lì? Non mi piace il muskettino Ma cosa gira nella testa di questi default e no skin? Ehi Ma Ma Cioè veramente Ok puoi essere nabbo Ma tipo se io fossi nabbo Scapperei Ah ha vinto pure Ok Eh vabbè Se l'è cercata Leaping with spirit Leaping with spirit Esatto Vabbè ma se l'è cercato Tfew Ma una kill ha fatto Solo Tfew Guarda questo è un pro eh Ha killato Tfew È un pro Andiamo un po' qua Poteto Kemen Contro il no skin Ecco Già questo no skin Mi sembra un po' uno che ne sa Perché vedo che almeno si muove Scappa Lui scappa Almeno ci prova A corre Può corre pure Sa correre Attenzione Se lo uccide con una cecchinata In no scope rido Vi giuro che rido Ora gli tira una cecchinata In no scope Sono sicuro Non deludermi no skin Non deludermi Lui corre in perterito Lui cerca di scappare No poverino Ma Ma perché Vediamo adesso questa Cosa Cosa succederà mai qua I soliti no skin Che non si rendono conto Della mappa di Fortnite Di dove sono Ma Che poi è brutto Prenderli in giro Ma in realtà Cioè È un po' anche È bello ridere Delle persone che magari Si divertono un po' Perché non capiscono bene Come si Guarda che sa buildare Questo no skin Questo ne sa Ne sa Se lo uccide Se lo uccide Io godo sempre Quando è no skin Oh my Are you joking? Cioè il bambino Che si è incazzato Fa Stai veramente Scherzando Cioè È morto Senza darmi la kill Qual è il tuo piano? Qual è il tuo Un no skin Che cerca di congelare Un altro no skin Ah Ora ho capito Ora ho capito Il suo piano Ok è finito Fuori dalla mappa Di nuovo Tfew Tfew Si diverte tanto Con i no skin Poi ci perde A sua volta Guardalo 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 che eroe Questo Pablo Escobar Vediamo cosa ci tira fuori Pablo Escobar Beh ok Cosa c'è da ridere Tfew Oh ma come fanno A beccare in in game Sta gente Io Gli unici che becco in in game Sono calciatori assurdi Tfew becca i no skin Vabbè che nei server americani I nabbi sono all'ordine del giorno Tfew ha 4 di vita E ha 14 trappole Ma come fa ad avere 14 trappole In una partita Beh ha 13 kill Però non ha armi Non ha nulla Probabilmente ha dato le sue armi a lui Vabbè Cos Ah sta al telefono Tfew tra l'altro Ma che cosa Che cosa sta succedendo qui E Tfew di nuovo perde Ormai abbiamo capito Che quando Tfew prova a prendere per il culo Perché questa è la vita rossa Ah è vero C'era un bug tantissimo tempo fa Non so se ve lo ricordate raga C'era un bug tantissimo tempo fa Che praticamente Ma come ha fatto a non vederla Come ha fatto a non vederla Era visibilissima Il vampa fucile Quanto mi manca Quanto mi manca il vampa fucile Era una bella arma Tutto sommato Se Dai Ma Ma Cioè Questo Io Io In di Cioè Io farei La giornata nazionale Contro il bullismo Verso i no skin Ma Ma di brutto proprio Qua Pinnacoli Chissà quanti anni fa E c'è E c'è il nabbo vicino a lui Oh Oh Signori Ci prova Ci prova Ah Povero Povero Vabbè Vabbè Dai Oh Una rene gate raider Ah E tfew È vero E tfew Che dà un pompa al tipo E il tipo lanciotta Dimmi Dimmi che è così Dimmi che è così Ti prego Re Amo Tfew deve imparare Deve imparare Che non deve prendere per il culo I no skin Perché non gli va mai bene Mai Come spiegativo Tfew Ci sta E come tattica ci sta Ok Quindi loro aspettano tutto il tempo Ah Che 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 È vecchissima sta clip I picconi avevano ancora 10 di vita Ma che Cioè facevano 10 di danno solo È vecchissima Ma Ma perché Che Quando Quando vedo ste robe La mia domanda è Perché fai una roba del genere Dandole kill non te le dà Perdi solo tempo della partita Why you bully me Eh Esatto Perché State bullizzando Chiamate striscia la notizia Veloci Ma queste 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 clip più che fa ridere Ti fanno chiedere Ma perché una cosa del genere Perché Poverini Come minimo Siamo ancora lì Va bene Ho capito Ha piazzato una trappola Probabilmente Cappuccetto rosso Perché il default Lì non neanche sa Ma il default È concentrato Lui ha una missione Su Fortnite Salvare Il suo amico Due ore dopo Siamo ancora lì Io Non ho parole Fosse in cappuccetto rosso Io avrei già Abbandonato il gioco Da una vita Lui Lui In perterrito Lui continua In perterrito Lui continua Lui ha una missione Nella sua vita Darkness My old friend Raga Il video Finisce qui E io Non ho dovuto Shoppare Assolutamente nulla Perché non ho riso Magari il prossimo video Farà più ridere Questo Non tantissimo